La storia di ottimismo sta prendendo forma a Detroit. L'ex Motor City, tristemente famosa per un secolo di squallore e declino economico, è finalmente entrata nella sua nuova epoca d'oro. Con un colpo di fortuna, le numerose discariche cittadine, le strutture abbandonate e le zone industriali si sono rivelate ricche di risorse rare molto apprezzate e ricercate nell'economia odierna. Migliaia di migranti sono stati colti dalla febbre della spazzatura, setacciando la città in cerca di attrezzature elettroniche prodotte a cavallo del secolo scorso. Incuranti dei numerosi pericoli e della violenza delle gang, questi pionieri hanno dimostrato che lo spirito imprenditoriale americano è ancora vivo e vegeto.